In un video pubblicato sui social l'onorevole Claudio Stefanazzi torna sulla decisione di Agicom contro Telerama per una presunta violazione, frutto peraltro di una interpretazione opinabile della par condicio nella campagna elettorale. Poi attacca ancora una volta l'emittente e infine ricorda che a due giorni da un mio editoriale gli sono stati recapitati proiettili e minacce. Legittime le critiche, per carità, ma non tutto il resto. Non tutto il resto. Onorevole Stefanazzi, si rende conto di quello che ha detto, della gravità delle sue parole, della gravissima portata dell'insinuazione? Come si permette a sancire di fatto con le sue parole che possa esserci un nesso causale tra il mio editoriale e il vile gesto intimidatorio compiuto nei suoi confronti? Come si permette anche solo ad accostare il fatto che le mie opinioni possano aver incitato azioni mafiose? Tutto questo non glielo consento. Il contenuto delle sue dichiarazioni nel video diffuso sui social mi consenta di dire è miserabile, è infelice, offensivo, aggiungerei calunnioso. Il mio editoriale, lo ricordo ai telespettatori, risale all'indomani di una sua nota con la quale, con toni inquisitori e vagamente intimidatori, si era scagliato contro un nostro servizio colpevole, a suo dire, di aver osato dar conto di un incontro del Presidente Emiliano con medici e dirigenti dell'Asel nella giornata precedente al voto di ballottaggio. Nello stesso servizio, Emiliano ammetteva di partecipare a quell'incontro non per parlare di sanità ma per sostenere la candidatura a sindaco di Carlo Salvemini. Secondo noi era ed è una notizia, tant'è vero che è stata poi ripresa anche da altre testate e con il mio editoriale non ho fatto altro che difendere quella scelta. Al nostro fianco poi si sono schierati Ordine dei giornalisti di Puglia e Assostampa di Puglia, che le ha ricordato come la libertà di stampa, e il diritto di cronaca garantiti dalla Costituzione significano autonomia e indipendenza nella scelta delle notizie da pubblicare. Onorevole Stefanazzi, continui pure a fare le sue interrogazioni parlamentari, a mandare segnalazioni alla Gcom, a chiedere incontri con il Prefetto, a denunciare i comportamenti che lei ritiene scorretti e antidemocratici di questo emittente, tutti ovviamente da verificare. Contesti pure le mie opinioni. Tutto l'Egitto, ma non si deve permettere di fare simili insinuazioni, di infangare più di 30 anni di professione, di accostare il mio lavoro, il lavoro della redazione di Telerama, ad un vile gesto intimidatorio. Così offende me, offende la redazione, offende una comunità e offende anche la sua intelligenza.